ok quindi stop cording quindi stavolta siamo sicuri che registriamo ok e quindi possiamo credo riprendere stavamo parlando dei selettori e quindi dicevamo di come si possono combinare abbiamo fatto qualche prova così al volo reale poi la facciamo anche sul Visual Studio Code ho usato questo sito V3Schools che va bene giusto appunto per fare qualche click senza doversi preoccupare troppo di metter su una pagina importare CSS eccetera che appunto è l'argomento invece di questa ora e mezza c'è una proprietà molto particolare su cui vale la pena spendere qualche parola in più perché fa sì che gli elementi della pagina si comportino in maniera abbastanza diversa dall'usuale abbiamo detto che ogni elemento di default è di tipo o block o inline e c'è una proprietà CSS che ci consente di modificare questo comportamento che è la proprietà display quindi possiamo far diventare un elemento che è inline di tipo block e viceversa chiaramente nei limiti del possibile perché una tabella certo può diventare di tipo inline ma resta sempre una tabella se è una cosa grossa così scriverla da sinistra a destra cioè di fianco ci sarà del testo ma se è grosso così questo testo starà comunque di fianco a una tabella però per esempio nel caso di una lista che se non sbaglio di default è block possiamo trasformare in elementi inline quindi andiamo a fare la prova semplicemente cliccato sul link quindi display properties dovrebbe esserci ecco try yourself c'è proprio la lista li quindi di nuovo lo stesso sistema di prima sono tre link li, li, li e quindi list item in cui guardate facciamo una prova facciamo e togliamo lo stile così vedete lo stile della lista di default lista unordered ok ok ripristiniamo il comportamento standard questo è l'inline quindi uno di fianco all'altro block block uno sopra l'altro ok perché dicevamo che i block vengono disposti per lo meno di default uno sopra l'altro su nuove righe quindi giusto per vedere cosa capita adesso non lo applico più a lì faccio solo una prova se non applico alcuno stile vedete che di default è di tipo block posso anche vederlo diversamente consentitemi di fare questa prova questo è veramente live non l'ho provata prima però è anche naturale fare un po' di sperimentazione quindi cerchiamo solo di non perdere troppo tempo block html e quindi ci incollo a quello che vedevamo prima e quindi rimuoviamo un attimo questo style lo apriamo nel nel browser quindi anziché index andiamo a prenderci il block ingrandiamo un po' volevo farvi vedere cosa si vede con l'inspector quindi nel momento in cui andiamo qui abbiamo la possibilità di esplorare che cosa succede nei vari diciamo nei vari elementi quindi ecco elemento no questo ce l'ho dato di tipo in line però evidentemente quello allora sono elementi di tipo in line perché qui c'è scritto in line in cui però però questa cosa non mi comincia tanto qui va a essere di tipo no questa cosa mi sa che non funziona niente vabbè ok la cosa interessante se volete è che potete anche sperimentare live nel senso che dovreste poter fare questa operazione quella che dicevamo prima eh però prima facciamola diventare in line quindi ecco per cui non si fanno questi esperimenti live è per evitare di perdere troppo tempo quindi riscrivo block eh no scrivo in line ecco tra l'altro viso studio code vi aiuta e vi suggerisce la maggior parte delle cose lì quindi li display in line vado a rivederlo sulla mia pagina quindi stavolta l'abbiamo fatta in line ecco tra l'altro appunto in line però se volete io qui direttamente nell'inspector posso scrivere dovrei poter scrivere edit li style che va giusto bene per fare delle prove dunque ben detto come si chiama amnesia display display block quindi ho editato al volo e vedete che è andato a capo potete fare queste queste prove e qui state modificando semplicemente lo stile applicato ad un singolo tag direttamente sul tag è proprio solo una prova non è raccomandato per per creare un'applicazione in questa maniera ma proprio solo per sperimentare un pochettino no il default dell'inline che è stato applicato quindi è e quindi è stato eliminato dal dal valore del dell'attributo style che abbiamo messo abbiamo proprio solo fatto una prova per farvi vedere quanto gli strumenti che avete a disposizione in realtà sono potenti da questo punto di vista no quindi anche nel browser potete andare a sperimentare e provare immediatamente che cosa succede quando cambiate qualcosa no ok il display ci consente anche di fare una cosa interessante questo è importante cioè nascondere un elemento no e fare in modo di visualizzare la pagina come se l'elemento non ci fosse e questo è importante perché nell'interfaccia web quando abbiamo l'utente che clicca apre una cosa chiude eccetera magari noi vogliamo caricare tutta la struttura ma visualizzare solo certe cose e quindi modificando semplicemente una proprietà del CSS questa display ponendola a none lo faremo poi dal codice javascript riusciamo a visualizzare e nascondere delle cose direttamente sulla pagina quindi il motivo per cui voglio mettere una cosa ma mettere display none è per poterla nascondere e farla apparire dinamicamente notate che esiste anche un altro attributo che si chiama visibility hidden che anche questo nasconde le cose ma tiene lo spazio mentre prima sparisce come se nell'albero del dom non ci fosse più in realtà c'è ma non visibile però è come dal punto di vista del layout che non ci fosse qui invece c'è ancora e quindi va bene per esempio per nascondere dei messaggi che però magari stanno in uno spazio che rimane comunque sempre presente e quindi lì se metteste display none quello spazio si comprime e tutto il resto della pagina scorre se invece lo spazio lo vogliamo sempre lì ma vogliamo solo nascondere qualcosa possiamo semplicemente mettere visibility hidden quindi questo meccanismo del CSS è estremamente potente ci sono alcune alcune proprietà che appunto vale la pena di conoscere noi ve le segnaliamo per consentirvi di appunto conoscerle nel momento in cui dovrete manipolarle quando svilupperemo l'applicazione web però ovviamente tanto forniremo degli esempi l'importante è riuscire a orientarsi nell'esempio cioè se appunto io vado poi con JavaScript a cambiare la proprietà del CSS e display devo almeno sapere che cos'è e cosa fa capire che è una proprietà del CSS eventualmente andarmela a cercare sulle slide o sulla specifica se non me lo ricordo più però almeno sapere dove andare a cercare e che cosa potrebbe capitare queste sono tutte le pseudo class va bene insomma ce ne è di tanti tipi direi che non è il caso di soffermarci ovviamente si sono di più sofisticate solo disponibili CSS3 e altri invece erano già molto diffuse sulle versioni precedenti cascading stylesheet noi abbiamo sempre parlato di stylesheet ma diciamo sempre CSS la C sta per cascading cioè fogli di stile in cascata perché perché in realtà ci sono diversi fogli diversi insiemi di regole che si applicano mano a mano che diciamo vengono incontrate da parte del browser per decidere la visualizzazione finale del vostro contenuto prima di tutto c'è il default style del browser cioè ogni browser ha una sua visualizzazione di default che è quella che vedevamo all'inizio quindi avevamo i miei voti qui questa è la visualizzazione di default c'è un suo stile predefinito possiamo anche dire tipicamente orrendo per lo meno per gli standard moderni che è quello che viene applicato per primo poi abbiamo gli stili esterni cioè fondamentalmente i file esterni adesso andremo a vedere come fare a crearne uno nel quale possiamo scrivere delle regole per dare appunto degli stili tramite il CSS dopodiché abbiamo gli stili interni che sono quelli che abbiamo appena intravisto quindi scrivevamo in quell'esempio c'è un tag style nella parte head e l'avete visto e ci serve più che altro per fondamentalmente fare delle prove così come gli style inline che vi ho fatto vedere nel rispetto del browser quindi questi sono poco usati nella pratica perché di solito vogliamo avere un punto centrale dove manipoliamo tutto il nostro stile in maniera coerente per tutta l'applicazione perché poi tutte le pagine della nostra applicazione importeranno lo stesso stile in maniera che sia coerente per tutti poi abbiamo anche detto che noi ci focalizziamo sulle single page application quindi in realtà c'è solo una pagina che importa lo stile perché l'applicazione è costituita da una pagina va bene stile esterno è un file un normale file di testo di nuovo altro file di testo che viene importato nella sezione head semplicemente tramite questo tag link rel stylesheet type text css href e null del foglio del file e cosa c'è scritto in style css ci sono scritte le regole che vanno applicate appunto basta niente di particolare anziché scriverle qui in un tag style le scriviamo in un file esterno e vi ho detto il perché punto centrale file separato gestibile in maniera molto più semplice stile interno è quello che abbiamo intravisto questa è la maniera corretta di scriverlo vabbè però i browser sono molto tolleranti quindi se anche diciamo non mettiamo proprio tutto spesso funziona spesso e volentieri funziona lo stesso quindi non abbiamo scritto il type text css ma lui l'ha capito lo stesso e ci ha fatto funzionare lo stile applicato alla pagina non raccomandato per i motivi che dicevamo prima e in più c'è ancora questo diciamo sistema di emergenza in cui ecco notate solo che qui non è presente il selettore ma perché perché siamo già dentro un tag quindi più che al tag non si può applicare questo stile e non ci sono neanche parentesi graffe però è la stessa sintassi della regola css che abbiamo già visto ecco regole di priorità qualcuno diceva dunque come facciamo ecco se quello che scriviamo può eventualmente andare in conflitto con la libreria esterna qualcosa che usiamo e sì sì c'è un insieme di regole tra l'altro anche abbastanza complicate lo vedete già solo da questo diagramma ma c'è un altro ancora peggiore che dice alla fine qual è la regola che si applica in caso di conflitto se non c'è conflitto il problema è già risolto ma se c'è il conflitto bene ci sono c'è appunto lo stile di default lo stile utente impostato nel browser tutti gli stili impostati nei vari file più o meno interni nel file html in più ci sono quelli marcati come importanti e quindi ovviamente tutto può andare in conflitto noi cercheremo di avere il minimo conflitto possibile con la libreria perché se no che senso ha usare la libreria se noi cambiamo il comportamento tanti comportamenti di default della libreria vuol dire che cioè stiamo usando una libreria che non ci piace però può darsi che ci sia una piccola cosa da sistemare da cambiare perché è specifica della nostra applicazione e non lo so non ci piace il più il colore di un certo elemento ma solo di quell'elemento specifico perché non lo so quello lì volevamo farlo decidere all'utente vabbè allora scriveremo in qualche maniera un qualche cosa che cambia con una regola CSS che si applica solo a quell'elemento e ci cambia il colore di quell'elemento perché vogliamo così però se dobbiamo cambiare il tema della nostra libreria probabilmente c'è qualcosa che non va nel ragionamento di usare quella libreria quindi in giro trovate delle risorse che vi spiegano esattamente qual è la regola che alla fine si applica in caso di conflitto eccetera eccetera però è una cosa estremamente complicata specialistica in cui non vogliamo entrare e non ci interessa entrare ci sono delle regole e qualcuno le ha definite le ha standardizzate nel momento in cui qualcosa non ci funzionerà vabbè ce ne preoccuperemo però cerchiamo di non usare cose che vanno al conflitto il più possibile finiamo le questioni di layout finora abbiamo giochicchiato fondamentalmente con l'aspetto tranne il display in line block però abbiamo fondamentalmente cambiato il colore potevamo cambiare le dimensioni il font queste cose erano questioni di aspetto adesso finiamo al layout prima di tutto c'è da capire che nel css si usa un modello fatto a scatole a box a rettangoli che è appunto uno degli elementi fondamentali del css ogni elemento che viene posto su una pagina html è considerato un rettangolo anche quelli in line quelli in line semplicemente sono messi uno di fianco e l'altro sulla linea senza andare a capo i block sono messi uno sopra l'altro il modello di questo rettangolo per il css è questo c'è il suo contenuto e poi ci sono tre strati esterni uno è il padding quindi uno spazio tra il contenuto e il suo bordo poi c'è la possibilità di inserire un bordo che di solito è zero negli esempi che abbiamo visto è zero nel senso non c'è a dimensione zero questo bordo può avere un colore a differenza degli altri che prendono il colore o del contenuto dalla parte esterna e in più un margine per spaziare gli elementi all'interno della pagina questo è lo stesso modello che trovate nell'inspector quindi avevamo visto via destra nel momento eccolo qua questo è esattamente il box model che vedete nell'inspector quindi prendiamo qualcosa prendiamone uno selezioniamo questo andiamo a cambiare qualcosa vedete quanto è potente questo inspector quindi stiamo mettendo il bordo che tra l'altro vuole anche dire che si disallinea col resto perché voglio dire ogni cosa tiene un suo spazio però diciamo ecco aumentiamo il padding web attaccato abbiamo aumentato lo spazio che è a sinistra vedete io tocco qui toccavo qui e vedete che la sua sinistra non posso spostarmi col mouse ma vedete che vi viene evidenziato che cosa sto toccando il padding margine margine vabbè margine 0 adesso che so insomma potete provare per conto vostro a vedere che cosa significa ogni cosa che stiamo quasi ogni cosa che vediamo sulle slide quindi è inutile che ci soffermiamo questione di sperimentare no quindi ognuna di queste proprietà oltre che giochichiano con l'inspector si può settare tramite un'apposita properties del CSS quindi se andate sulla specifica ci sarà border width padding eccetera write padding non so neanche come si chiamano perché in realtà come vi dicevo di solito cerchiamo di evitare di lavorare ad un livello così basso abbiamo la libreria ha i suoi default se proprio c'è l'elemento in cui vogliamo cambiare qualcosa andiamo a cambiarlo però evitiamo di solito vediamo quindi data questa promessa tutto è un rettangolo con queste caratteristiche diciamo esterne cioè questi tre chiamiamoli bordi anche se appunto il bordo è proprio uno solo e come facciamo a posizionare gli elementi sulla pagina dunque questo è il comportamento di default del browser e il comportamento di default è usare uno di questi quattro algoritmi il cosiddetto normal flow che appunto il default è il default cioè se non diciamo niente viene tutto posizionato in normal flow cioè gli elementi di tipo block uno sopra l'altro nuova riga e gli elementi di tipo inline uno di fianco all'altro eventualmente andando a capo se però diciamo che il posizionamento quindi position la proprietà position è relative io lo sposto relativamente al normal flow di una certa quantità so left top e lo sposto e posso spostare questo vuole anche dire che eventualmente posso sovrapporre i blocchi e così via però per qualche motivo potrei avere la necessità di farlo absolute è relativo al blocco che lo contiene quindi questo è relativo al normal flow e questo è relativo al blocco che lo contiene quindi se avessi un div più esterno il div viene collocato a qualche parte poi al suo interno quello che ho che ho cambiato come position ho messo absolute viene posizionato sulla base della posizione del blocco esterno oppure fixed relativa alla finestra quindi la viewport per esempio come fanno a tenervi un'immaginina un qualcosa sempre nello stesso angolino nel momento in cui voi scrollate con la finestra del browser quindi scorrete il contenuto bene è un elemento in cui probabilmente hanno a livello il css impostato come position fixed e lo avranno messa in qualche punto all'interno del vostro della vostra viewport cioè la finestra del browser nel momento in cui facciamo tutti questi giochetti i blocchi si possono sovrapporre e quindi c'è anche un meccanismo per decidere cosa viene visualizzato il cosiddetto z-index x y sono gli assi e il terzo asse la z cioè la profondità e quindi impostando questo valore di z-index possiamo decidere che cosa viene sopra e che cosa viene sopra di nuovo diamo un'occhiata giusto per farci un'idea poi appunto tranne casi veramente particolari che cerco di evidenziare non useremo quasi mai tutti questi sistemi anche perché questo è il sistema più vecchio e ne esistono di più moderni e più flessibili floating ecco fare un elemento di tipo float può essere utile perché diciamo questa è la prima maniera per riuscire a fare in modo che gli elementi si spostino sulla base della finestra che abbiamo a disposizione quindi in particolare possiamo dire di allineare in una certa maniera sinistra centro destra e così via e questa è una delle principali proprietà dell'elemento floating quindi nel momento in cui diciamo float e poi diciamo da che parte questo si sposta e diciamo che serve un po' a fare quello che viene fatto fondamentalmente sui giornali dove abbiamo del testo o sui documenti dove abbiamo del testo con delle immagini inframmezzate al testo che fanno girare il testo intorno e queste immagini si spostano più o meno dove desideriamo nel nostro layout nel momento in cui definiamo qualcosa di float tutto il resto si comporta di conseguenza perché questo comincia a float vuol dire a galleggiare nella pagina e quindi sposta tutto il resto possiamo aver bisogno di dire basta nel senso di resettare questo comportamento da un certo punto della pagina in poi esista questa proprietà clear ma di nuovo cerchiamo di non esagerare nel senso il float può essere utile ogni tanto per appunto posizionare magari un singolo elemento sulla nostra pagina vogliamo che stia sempre in un certo post e così via e questo può essere utile piuttosto che posizionamento come dicevamo fixed però sono casi abbastanza particolari nel momento in cui abbiamo a disposizione i float possiamo riuscire a creare dei layout un po' dinamici perché per esempio noi nell'html scriviamo una cosa dopo l'altra per esempio con dei tag div che sono dei rettangoli e poi tramite i float riusciamo a posizionarli in maniera dinamica anche in maniera che dipende dalla dimensione della finestra che so diciamo che vabbè c'è prima il banner ok poi per gli altri tre elementi sinistra centro destra facciamo due float che si allineano a sinistra e un float che si allinea a destra quindi fondamentalmente qui è fatto con dei div poteva essere fatto con gli elementi html5 non importa l'importante è che abbiamo un qualche modo di indirizzarli poi col selettore nel css e spostiamo quindi a sinistra non so quello che ci interessa portare a sinistra che sono main nav a destra il resto e così via creando eventualmente dei buchi più o meno visibili perché questi rettangoli i div non sono visibili li vediamo solamente nel momento in cui apriamo l'inspector e andiamo a vedere che cosa sta succedendo a livello del layout io qui non starei a perdere troppo tempo anche perché mi preme di più arrivare appunto alla questione della libreria che dovete poi usare in laboratorio quindi diciamo che nel tempo si sono succeduti tanti modi diversi di fare layout in css questo dei float è stato uno dei più comuni perlomeno fino a poco tempo fa e dico fino a poco tempo fa perché col tempo nella specifica css sono emersi altri modi forse un po' più semplici a mio avviso di fare layout anche sulla base del di come poi effettivamente venivano realizzate le pagine web e i sviluppatori web volevano creare le loro applicazioni cioè tendenzialmente una parte di header una parte di navigazione eccetera quindi con questo tipo di layout che può essere più o meno variabile a seconda dell'applicazione ma fondamentalmente le esigenze erano quelle e quindi per esempio è emerso ad un certo punto la possibilità di usare una griglia quindi dividere la nostra pagina in una griglia e collocare il contenuto sulla base diciamo delle posizioni della griglia che voglio occupare eventualmente anche più di una casella quindi inizialmente prima del css si faceva tutto con delle tabelle nascoste questo approccio ovviamente tramontato per fortuna anche perché inseriva nell'html elementi di visualizzazione che ovviamente non ci piace fare ad un certo punto il css ci è venuto un aiuto con questi meccanismi che dicevamo prima di posizionamento rispetto al normal flow o il float e poi piano piano questa cosa è evoluta è venuto fuori questo meccanismo del grid e quindi nel momento in cui vogliamo usarlo dobbiamo definire una griglia in maniera più o meno esplicita quindi definendo quante colonne righe abbiamo vogliamo nel css oppure in maniera implicita data dal fatto che diciamo ci sono degli elementi che automaticamente creano una griglia come una tabella e così via e quindi nel momento in cui noi abbiamo i nostri soliti tag diciamo eda, nave eccetera eccetera un layout a tre colonne se noi definiamo che section dunque era section l'elemento che contiene tutto lo definiamo con display di tipo grid poi possiamo decidere quante colonne fare quante righe fare e come collocare e quanto dimensione associare ad ogni riga e colonna e poi dove collocare ogni elemento quindi section header quindi header figlio di sezione nel documento quindi header figlio di sezione e questo è il selettore css diciamo che va nella colonna 2 row 1 del grid che dobbiamo aver definito qui e ovviamente queste proprietà si possono usare solo se il display dell'elemento padre grid quindi questa è una maniera alternativa forse un po' più intuitiva di quel meccanismo coin float perché coin float cominciate a dire una cosa va a sinistra l'altra a destra l'altra a destra allora gli andrà contro però rimane lo spazio in mezzo e così via era un po' più difficile ragionare il float va bene nel momento in cui c'è un singolo elemento che appunto naviga all'interno della pagina e devo sistemarlo da qualche parte ma quando non comincia ad averne tanti diventa molto difficile da utilizzare efficacemente quindi a un certo punto si è passati al grid in cui si ragionava in termini di tabelle di dimensione fissa fissa in pixel o relativa è stato introdotto questo fr per dire fondamentalmente lo spazio che resta lo divide in certe parti proporzionali qui ce n'è uno solo che resta quindi tutto lo spazio resta associato a questa colonna oppure possiamo ragionare in termini di percentuale come dicevamo prima è un'altra misura per le lunghezze in CSS e definita come è fatta la tabella poi collochiamo gli elementi di nuovo se siete curiosi potete andare a cercare queste risorse in rete che mettiamo a disposizione ecco vi parlerei un attimo in più del Flexbox ma giusto perché è quello che viene utilizzato nei sistemi più moderni viene utilizzato anche dalla libreria che andiamo ad utilizzare e quindi vale la pena perlomeno avere un'idea di come funziona il Flexbox è un'alternativa a tutti i precedenti quindi sia i float sia le grid che abbiamo appena visto e fondamentalmente l'idea è quella di sostanzialmente consentirvi di definire il comportamento degli elementi a livello immediatamente inferiore quindi nel momento in cui io decido che un blocco ha un layout di tipo Flexbox Flex N-C-S-S questo determina come si comportano i blocchi a livello immediatamente inferiore quindi per esempio in questo caso io dico si allinano tutti a sinistra bene questo blocco esterno è di tipo Flexbox i miei blocchi dico che si allinano tutti a sinistra allora automaticamente scorreranno a sinistra oppure a destra oppure se lo faccio in direzione verticale in verticale posso dire la dimensione relativa di questi blocchi posso decidere l'ordine eccetera e ci pensa il diciamo il sistema di layout del browser di tipo Flex a collocarli all'interno del blocco più esterno e ragionare appunto i termini di contenitore con gli item interni è un po' più semplice che fare tutto quello che facevamo prima in cui ragionavamo a livello di div ma non c'era il contenitore esterno c'era solo in un caso nel posizionamento cos'era se non mi ricordo più forse quello relativo quindi ragionare in questi termini è un po' più intuitivo se vogliamo dire qual è il vantaggio del Flex definiamo un contenitore che è il Flex Container in cui ci saranno degli item che sono i Flex items che verranno disposti secondo quanto viene detto nel container quindi ogni elemento HTML che è un figlio diretto quindi immediato a livello immediatamente inferiore del Flex Container è un item poi a sua volta può essere un Flex Container quindi al suo interno fare altre manovre però viene isolato dal livello superiore e quindi ci rende la gestione della disposizione in maniera ci rende la gestione un po' più semplice rispetto ai casi precedenti almeno questo è l'idea quindi nel container fondamentalmente andiamo a dire che il display è di tipo Flex differenza di prima grid float eccetera Flex e poi ci sono delle proprietà che possiamo decidere per esempio appunto l'allineamento centro sinistra destra eccetera che o lo spazio che viene lasciato intorno ai vari elementi eccetera eccetera e questo fa sì che diciamo il tutto venga impaginato nella maniera coerente con le regole che abbiamo dato e in maniera un po' più semplice dell'usare quei float per esempio di cui dicevamo prima Flex wrap va bene non ci stanno possono andare a capo quindi display flex flex wrap wrap semplicemente mettendo questo wrap senza cambiare il tipo di blocco quindi senza dover andare a dire che è un inline piuttosto che un blocco eccetera automaticamente viene gestito questo meccanismo dell'andare a capo questo è solo un esempio posso fare l'allineamento verticale quindi justify content che funziona sino orizzontale che in verticale e le allinea anche in verticale quindi decido come definire flex container item dunque io ho una proprietà quindi una classe quindi avrò un div diciamo questo esterno un div su cui io scrivo class uguale menu container e devo mettere display flex quella automaticamente diventa un flex container ok e poi tutto quello che metto dentro quel div è un flex item perché il container è un flex container quindi l'elemento superiore è un flex container tutto ciò che c'è dentro sono dei flex item automaticamente ma solo quelli di primo livello e poi sulla base delle proprietà che metto nel nel mio container quindi come giustifico il contenuto quindi come lo sposto centrato sinistra destra eccetera eccetera va a capo e gli item si comportano di conseguenza ok e se io ho detto che l'allineamento prego se l'allineamento a meglio la disposizione deve essere fatto in verticale piuttosto che in orizzontale eccetera questi si comporteranno di conseguenza quindi si disporranno in maniera verticale o orizzontale per esempio c'è questa property che è flex direction che ci dice se disporla in orizzontale o in verticale posso andare su singolo flex item per dare anche una dimensione e dirgli eventualmente se deve espandersi di quanto rispetto agli altri item presenti quindi se io do un weight uguale a tutti si espandono tutte la stessa quantità se do un weight maggiore a qualcuno qualcuno avrà crescerà di più degli altri quindi sarà tipo il doppio degli altri sono messo due rispetto a uno quindi che so prendiamo il footer quindi io ho un div class footer oppure potrebbe essere footer direttamente in html5 se footer direttamente scrivo senza il punto se class uguale foot scrivo punto foot nel mio css io dico display flex e questo è il container cioè quello intorno justify content space between voglio spaziati ben spaziati cioè ben disposti ben allargati il più possibile e il footer item in ogni footer item metto flex 1 e quindi dico scusa dico che il peso è 1 però in footer 3 ci metto flex 2 e quindi solo questo che anche la classe footer 3 prenderà flex 2 ok potevo mettere un id se mi piaceva di più però diciamo quelli chiamati 1 2 3 poteva essere che so copyright titolo sottotitolo e numero slide come abbiamo qui sotto e quindi che so uso una classe si tende a usare le classi perché magari così poi si riciclano se c'è bisogno se no se usano id poi però l'id è unico e quindi avrei dovuto mettere id uguale footer grande e poi mettere cancelletto footer grande flex 2 ma questo è solo css non capire come funziona la regola css i flex container conoscono solo come posizionare gli elementi che sono a livello immediatamente inferiore e quindi posizionano quelli e questo vuol dire che io posso raggruppare elementi di livello ancora inferiore e vengono posizionati tutti insieme dal container quindi nel momento in cui io devo fare un layout di questo tipo e credo che sia questa la potenza diciamo così del flex rispetto ai casi precedenti dove diventa molto più complicato da gestire io ho due elementi uno e due e il secondo elemento è composto ma per il flex non interessa che è composto il flex sono due item uno andrà a sinistra e uno a destra io so come farli andare a sinistra e destra e ho risolto il mio problema poi dentro qui questo lo faccio diventare un altro flex container ci metto dentro due cose se è necessario che diventi un flex container quindi ci sono una serie di proprietà se vogliamo utilizzare questo layout tipo flex nel browser che dobbiamo un po' conoscere con le quali dobbiamo fare un po' di pratica se appunto dobbiamo utilizzarle anche questo va approvato non proveremo queste cose in laboratorio quindi ve le raccontiamo per completezza perché poi quando aprite il browser no? e quindi dunque dov'è che avevamo visto a un certo punto c'era un flex che ci è comparso proviamo ad aprire potete farlo su qualsiasi pagina quindi ecco quando trovate poi dei dei tag di questo tipo nell'inspector flex cosa vuol dire? vuol dire che è probabilmente questo div che è class breadcam locale eccetera eccetera da qualche parte sarà stato definito vabbè questo è un grid è stato definito con uno di questi meccanismi di di layouting ok quindi non è non è detto che appunto cioè incontrate queste cose bisogna giusto sapere almeno insomma da dove vengono fuori e ci sembrava giusto almeno nominarle però ecco la parte più importante ed è per quello che cercavo di andare un po' in fretta per avere un po' di tempo per questa parte è che nel momento in cui sappiamo come funziona il CSS che nel CSS possiamo disporre i contenuti sulla nostra pagina e abbiamo un modo per decidere dove vanno cerchiamo di organizzare il tutto nella maniera migliore possibile e ci sono due aspetti che dobbiamo considerare uno il fatto che la finestra di visualizzazione può essere di dimensione differente e questo è il primo aspetto quello che chiamiamo come come responsive layout e poi il secondo cosa fare con la specifica libreria che vogliamo andare a utilizzare che quindi proviamo poi a usare per fare l'esperimento e andare in laboratorio e usarla dunque sapete che oramai possiamo visualizzare le pagine web e quindi le applicazioni web su qualsiasi dispositivo sul computer su un tablet su un dispositivo mobile eccetera e la dimensione dello schermo ovviamente cambia in maniera anche significativa fondamentalmente vogliamo poter idealmente modificare il layout delle informazioni di quello che visualizziamo sulla base della dimensione dello schermo del dispositivo una cosa molto banale bene per fortuna in CSS si può e possono può essere effettuato usando questo tipo di sintassi et media una media query cioè fondamentalmente ci consente di applicare la regola selettivamente solamente se ci sono delle condizioni soddisfatte non a livello di contenuto html quindi non è un selettore html ma è un qualcosa che ha a che fare appunto con come viene visualizzata sul dispositivo eccetera che tipo di dispositivo per esempio possiamo distinguere la stampante dallo schermo eccetera quindi qui ci dice che questa regola è molto banale p color red cioè tu fai tutti i paragrafi rossi si applica solo se la dimensione dello schermo ha la larghezza almeno 900 pixel ovviamente un esempio così che lascia il tempo che trova ma giusto per far vedere che c'è la possibilità nel CSS moderno di cambiare le regole in maniera automatica sulla base di informazioni che non derivano necessariamente dal documento html come per esempio la dimensione dello schermo e così via quindi nel momento in cui abbiamo uno schermo largo potrei voler disporre il mio contenuto in una certa maniera come quella che vedete a destra ma nel momento in cui sono su un dispositivo mobile un cellulare che tra l'altro di solito è più alto che largo a differenza dello schermo che ha il rapporto opposto il rapporto invertito tendenzialmente ho un layout che è una cosa sopra l'altra per consentirmi di avere delle cose sufficientemente grandi e poi magari giro lo schermo e devo di nuovo cambiare il layout comunque sulla base della dimensione dello schermo potrei voler cambiare la disposizione del mio contenuto i blocchi ci sono sono definiti sono definiti in html e sono quei blocchi di che determinano la semantica del documento cioè c'è una parte di header ci sono dei contenuti c'è non so una barra di navigazione che mi consente di fare delle cose ci sono questo afficio o qualcos'altro che mi interessa visualizzare io decido come visualizzarle in ogni caso quindi nel caso di schermo stretto medio largo e così via e posso farlo perché il CSS mi consente di farlo quindi facciamo dunque sì possiamo andare a provare a vedere che cosa succede sì con bootstrap giusto poi adesso torniamo però giusto per farvi vedere l'esempio di una pagina se io riduco vedete cosa succede questa è la pagina di bootstrap sto semplicemente ridimensionando la finestra ed è successo che qui avevo una parte sinistra una parte destra una parte centrale io riduco no e la parte la parte destra a un certo punto è sparita la parte sinistra a un certo punto è sparita ma che so compare un bottone dove c'è il menu che ho fatto sparire questo vuol dire che la visualizzazione appunto cambia sulla base della dimensione della finestra il contenuto è sempre lo stesso viene visualizzato in una maniera differente addirittura avete visto facendolo sparire facendo comparire un bottone eccetera eccetera questo è un comportamento già abbastanza avanzato però diciamo che l'idea è questa no come riusciamo a fare funzionare un sistema di questo tipo dunque stiamo aggiungendo complicazione su complicazione no quindi bisogna cercare di mantenere il sistema il più possibile semplice e quindi molti molti designer ragionano in termini di una griglia griglia invisibile in cui dividiamo la pagina in tante colonne e poi eventualmente in righe se ci serve per elementi che appunto devono essere visualizzati su tante colonne la cosa tipica che viene fatta è di usare 12 colonne non 10 perché si divide un po' meglio per 3 per 4 per 2 per 6 eccetera che copre una certa larghezza di pagina o tutta la finestra o una dimensione che può essere più o meno larga a seconda della dimensione della finestra e tutto il contenuto si sposterà occuperà più o meno colonne a seconda della dimensione della finestra di visualizzazione quindi mano a mano che riduco o espando la finestra del browser il contenuto si allarga si restringe e cambia di posizione eventualmente come vi ho fatto vedere per esempio sulla pagina di bootstrap prima quindi e come viene fatto questo dicevamo prima usando delle regole che si adattano alla dimensione della della pagina noi non ci mettiamo a scrivere a mano queste regole perché sarebbe una cosa che non non finisce più e appunto poi più si complicano le cose più ci sono interazioni tra le varie regole e così via quindi è inutile che ci mettiamo a cercare di scrivere da zero una cosa di questo tipo usiamo qualcosa di ben fatto già fatto e impariamo a usare questo bootstrap è uno dei tanti delle tante diciamo librerie css che vengono messe a disposizione tra l'altro gratuita liberamente utilizzabile nei vostri progetti per andare a appunto ad avere da un lato uno stile di default ragionevole un po' migliore di quella roba che abbiamo visto di default nel browser con la tabella dei voti avete visto che stile aveva ve lo faccio rivedere vediamo questo cioè questo è lo stile di base che vabbè a parte questa cosa che adesso abbiamo aggiunto ma ricarichiamo pure il documento ma è abbastanza orrendo e quindi ci mette un default ragionevole e in più ci fornisce tutta una serie di meccanismi per realizzare i nostri il nostro layout soprattutto perché la parte è difficile in maniera semplice e ragionevolmente intuitiva tra l'altro ecco come si diceva prima nell'intervallo con qualcuno che ha scritto su slack essendo una libreria in cui appunto sono state definite tutto un insieme di regole eccetera gli sviluppatori di questa libreria si sono anche preoccupati di vedere se che tutto funzionasse su diverse piattaforme diversi browser quindi qualcuno che chiedeva come facciamo assicurarci che funzioni tutto su qualsiasi browser qualsiasi sistema operativo eccetera fondamentalmente sfruttiamo il lavoro di qualcun altro che ha già fatto queste verifiche per noi ed eventualmente ha messo qualche regoletta particolare per aggiustare dei comportamenti che magari nel tempo si risolvono ma che per ora sono problematici quindi noi usiamo questa libreria che originalmente è stata sviluppata da twitter ora siamo in versione 4.6 probabilmente il prossimo anno avremo la 5 che ha appunto uno stile che ci appare da un lato un po' moderno non è quello stile anni 2000 forse prima delle pagine web che appaiono veramente brutte se vogliamo da un certo punto di vista cioè si adegua come dire alle interfacce grafiche moderne e poi è molto facile da utilizzare da personalizzare anche appunto da modificare leggermente nel caso sia necessario ed ha un sistema per realizzare layout abbastanza semplice che è quello che cerchiamo perché abbiamo visto che ci sono diversi meccanismi per fare layout in css mi verrebbe da dire uno più complicato dell'altro anche se qualcuno magari è un po' più semplice però fondamentalmente sono tutti macchinosi vedrete che invece per esempio in bootstrap la cosa è abbastanza semplice abbastanza intuitiva cosa fa bootstrap fondamentalmente ci chiede di importare un grosso file css in cui gli sviluppatori hanno scritto tutte le regole necessarie a far funzionare i comportamenti che appunto adesso andiamo a descrivere per il layout da un lato e poi per i vari componenti che eventualmente vogliamo utilizzare hanno già dato una bella forma un bello stile ai bottoni hanno già dato un bello stile alle caselle di testo con le quali vogliamo interagire hanno già fatto in modo che le tabelle appaiano ben formattate e passiamo il mouse sopra e c'è già il comportamento quindi la regola associata al fatto che passando il mouse sopra cambia leggermente il colore e così via tutte queste cose a cui siamo abituati nelle interfacce grafiche più moderne è basato su una serie di classi css quindi sono tutte classi quindi le regole di bootstrap nella libreria sono tutte punto qualcosa noi dobbiamo semplicemente conoscere il nome di queste classi basta andarle a cercare nella documentazione di sicuro spulciare il file e ognuna applica un singolo effetto possiamo applicare molte classi allo stesso elemento html questo l'abbiamo già visto class uguale virgolette una spazio un altro un altro un altro un altro uno spazio separato da spazio e applicandone diverse diciamo che componiamo il comportamento che vogliamo per ogni singolo elemento html ci sono tutta una serie di classi standard molto molto ampie e anche componenti appunto appunto elementi interattivi gruppi di elementi eccetera ed in più è tutto stato pensato nella filosofia responsive cioè quella che vedevamo prima e che abbiamo visto anche sul sito di bootstrap che ovviamente userà bootstrap come libreria css e cioè nel momento in cui ridimensioniamo abbiamo la maniera di dire dove spostare i componenti a seconda della dimensione come facciamo a usarla il sistema è semplice dobbiamo importare la libreria css nel file html che andiamo ad utilizzare a scrivere dobbiamo anche importare un piccolo file javascript perché non tutto si riesce a realizzare in css però noi non lo apriremo mai quel file noi ci fidiamo qualcuno l'ha scritto per noi l'ha fatto funzionare bene con bootstrap e non non ci interessa quindi certi comportamenti un po' dinamici tipo apriamo una lista di opzioni eccetera eccetera noi li scriviamo solo in html qualcuno tramite il javascript ha già agganciato il tutto fatto funzionare il tutto se non si riusciva a fare semplicemente in come si dice in in css puro si può usare usandola dalla cdn di bootstrap cioè sostanzialmente usando un url ma dovete essere online perché va scaricata ogni volta che ricaricate la pagina oppure scaricarla anche localmente eventualmente proprio anche come pacchetto npm se lo desiderate e quindi localmente vi vengono installati i file e andrete a caricare i file localmente quindi questo è quello che dovete prendere copiare incollare nel vostro codice qui è riportato solo come riferimento ma noi adesso proviamo a fare qualcosa di pratico altrimenti diventa di un noioso che non finisce più e quindi partiamo dal template quindi andate sul sito bootstrap questa è la 4.6 è l'ultima clicchiamo andiamo su bootstrap fatemi chiudere un po' di finestre perché sennò qui il computer tra un po' si pianta tutto e finiamo la lezione quindi siamo andati semplicemente sul su quel link no? starter template facciamo più grosso prendiamo questo codice tutto copia no? vabbè c'era anche il bottoncino vabbè apriamo il visual studio code dunque questo block ce lo dimentichiamo ecco non facciamo index facciamone index 2 potevamo chiamarlo come ci pare il nome non ha importanza in questa fase questo è il default di bootstrap no? qui in realtà c'è da scegliere opzione 1 opzione 2 questo è un commento se vogliamo separare ma non mi interessa opzione 2 buttiamola pure via non ci interessa notate le due parti head nell'head carichiamo con quello meccanismo che dicevamo prima link real estate sheet href e qui anziché se c'è un file locale c'è https eccetera questa cdn una cdn non è nient'altro che un insieme di server sparsi per internet tra l'altro pagati e supportati da qualcuno non so dirvi chi forse tweet forse qualcun altro che sostanzialmente ci mettono a disposizione di server web da cui possiamo scaricare la risorsa quindi scaricheremo anzi il browser automaticamente scaricherà la risorsa css volevo farvi vedere cosa c'era scritto dico file.css e poi dei file.js che verranno automaticamente caricati al browser quando carichiamo index.html l'integrity è semplicemente un hash del contenuto giusto per evitare che qualcuno magari carichi visto che questo è codice per esempio javascript carichi del codice malizioso noi lo scarichiamo senza sapere che cosa c'è e quindi se qualcuno lo sostituisce per fini poco poco consoni a quello che vogliamo fare diciamo il browser lo rifiuta se non matcha con questo hash che vuol dire che diciamo è la versione che il contenuto che vorremmo noi perché questo codice poi viene eseguito all'interno della nostra applicazione come tutto il resto quindi cosa si vede in questa pagina beh hanno messo title hello world h1 hello world andiamo a vedere quindi io ho salvato localmente sono in una cartella che ho chiamato web index2 quindi apro il mio browser possiamo semplicemente dire sarà un open sì open file giusto per farvi vedere come fare se questo è recent ma non mi interessa e la mia cartella web io appunto sto facendo questi esempi live index2 apro un file hello world vabbè questo è lo stile di default che è un po' diverso dallo stile appunto del browser ho piacere di meno di più però diciamo questo è solo l'hello world vediamo qualcosa di un po' più sofisticato cioè prendiamo il vecchio documento no? la nostra tabella alla fine abbiamo fatto body header quindi abbiamo preso header table sto facendo proprio live poi ve lo metto online finita la lezione quindi studiamo h1 hello world e incolliamo il resto ok non lo chiamiamo hello world i miei voti ok ho salvato mi raccomando ricordatevi di salvare e poi nel browser ricarichiamo o battiamo invio insomma fate quello che volete ecco questo questo è il default che vabbè non è tanto diverso dall'altro magari qualcuno mi dice mi fa schifo non mi piace eccetera vabbè questo è il default di bootstrap perlomeno nella versione proprio base no? qui non abbiamo applicato alcuna classe però avete vedete che avete già i bottoni non so come dire vi passa il mouse sopra e vi cambia colore no? ah ma anche qui allora avevo un default ragionevole avete le caselle diciamo ma non so se dirvi se c'è effettivamente qualcosa di così migliore facciamo ancora un passo in più no? proviamo ad applicare qualche qualche classe quindi ovviamente questo per ora abbiamo fatto copia e incolla dell'esempio nel template di bootstrap ecco scusate prima di prima di fare di andare avanti vi faccio notare che c'è questo elemento da scrivere nel header perché per far funzionare poi tutto il meccanismo della responsive quindi del fatto che ridimensioniamo cambia il comportamento bisogna cambiare un comportamento di default del browser però noi scriviamolo punto e basta quindi se andiamo a vedere nel Visual Studio Code nell'esempio c'era già semplicemente usiamolo punto ecco ci sono anche tanti altri esempi noi siamo partiti dall'esempio più banale ma per dire se noi vogliamo già partire che so da un album di fotografie piuttosto che da una pagina tipo tabella di checkout piuttosto che da varie opzioni piuttosto che da un tipo blog e così via no potete già andare a vedere gli esempi da qualche parte ci sarà il codice da qualche parte ci sarà il codice in cui potete fare copia e colla e poi iniziare a personalizzare lavorando solo in html per il momento non stiamo parlando di toccare css non tocchiamo alcun css quindi torniamo sulle slide sì questo è il template che abbiamo visto ecco nel momento in cui vogliamo vogliamo aggiungere un nostro css lo possiamo fare dopo il link che importa il bootstrap quindi tutte le regole css perché la regola nostra che viene dopo sovrascriverà quella della libreria se c'è conflitto se non c'è conflitto non c'è problema ok proviamo proviamo ad applicare prima di andare avanti una regola giusto per farvi vedere come si fa quindi che so prendiamo il dunque per la tabella diciamo class table è molto intuitivo adesso potremmo adesso io ce l'ho già qui me l'avevo già preparata per non perdere troppo tempo però giusto per farvi vedere adesso solo ho scritto class table andiamo a vedere il risultato dunque adesso ho fatto pasticcio con i vari firefox mi sa che questo era il vecchio e questo è il nuovo ok ecco no adesso vabbè ingrandisco sempre troppo per farvi vedere però questo è già lo stile bootstrap delle tabelle no ho solo scritto class table non ho fatto niente altro però mi sono uscite queste righe orizzontali e la tabella è stata come dire un po' risistemata se volete rispetto a quella diciamo di prima no di default presumo che tutti apprezzate il fatto che credo che questa tabella qui in basso a destra sia un po' migliore di quella di prima quindi questo lo buttiamo via al momento e quindi vi ricordo abbiamo scritto una riga anzi meno di una riga class table da dove abbiamo tirato fuori class table e semplicemente l'abbiamo preso dalla documentazione di bootstrap quindi bootstrap diciamo 4.6 table style possiamo cercare sulla pagina io cerco su google solo perché si fa prima ma importante che finiamo nel punto giusto che sia la documentazione di bootstrap tables e vi dice che esiste just add the base class table to any table no e quindi questo vi procura automaticamente una tabella formattata lasciatemi dire decentemente no table head table body head table row eccetera e vi fa già automaticamente ladder e tutto quanto quindi questo l'avevamo scritta bene in html non mi ricordo vado a vedere o nel visual studio code o qui quindi table avevo scritto il table body sì non è potevo scrivere il table head vabbè forse però diciamo che lui associa automaticamente al table header questo stile che è il grassetto e quindi mi fa tutti questi elementi in grassetto infatti qui ho scritto td questo per curiosità vediamo cosa succede poi dovrei mandarlo a cambiare il visual studio code se è permanente ok però vedete che lui automaticamente avrà una serie di regole al suo interno nel suo file non ci interessa dove che diranno punto no scusate non punto diranno in questo caso th th fallo che so bold quindi font face bold mi sembra sia qualcosa di questo tipo come possiamo prendere il css di table se volessimo modificare qualcosa allora non tocchiamo il css di bootstrap ma inseriamo come vedevamo sulle slide un nostro file css quindi andiamo a farlo ok facciamo così faccio il copio in colla per far prima e anche per non sbagliarmi perché se no se mi sbaglio poi finisce che perdiamo solo tempo importiamo il nostro file css no che però dobbiamo creare quindi stiles css questo è vuoto e quindi non fa assolutamente niente in questo momento tranne quello di essere importato ma importa una cosa vuota non ci sono regole non c'è niente da fare nel momento in cui volessimo cambiare qualcosa lo scriviamo lì dentro no quindi che so fatemi fare un esempio dunque la tabella diciamo facciamo facciamo una prova con l'header quindi diciamo che io vado poi proviamo anche con la tabella ah perché si ok quindi vabbè adesso il footer non ce l'abbiamo lasciamo header header quindi selettore di del tag quindi non punto header esiste tag header abbiamo fatto background color questo leggero blu e color blu vediamo un po' cosa succede stiamo ovviamente facendo esperimenti un po' lasciatemi dire molto approssimativi no ricarichiamo non succede niente si vede che non ho salvato bene allora questo è sempre il bello degli esempi quindi style css index2 index2 l'ho messo e quindi dovrebbe header cioè dovrebbe applicarsi per quale motivo non funziona adesso rispondo a chi mi ha scritto sulla chat ah eccolo qua ho preso probabilmente la cosa ho fatto shift reload quindi con la maiuscola perché se faccio reload è vero ovviamente ricarica solo l'html e non tutte le risorse e quindi non aveva caricato il css però vedete che si è applicato questo stile al header quindi possiamo fare la stessa cosa per la tabella io onestamente vi sconsiglio di si index2 html grazie io vi sconsiglio di andare a modificare troppo i default cioè la libreria bisogna un po' farsela piacere no perché perché se andiamo a toccare un sacco di cose finisce che da un lato diventiamo incoerenti con il resto delle cose già pronte e dall'altro magari roviniamo qualche comportamento della libreria che era stato messo a posto testato sui vari browser eccetera eccetera che appunto diciamo riduce la potenzialità della libreria no quindi adesso adesso rispondo un po' di domande quindi se ora se si schiacciasse la finestra tutto il contenuto dovrebbe automaticamente adattarsi e non ancora perché non abbiamo ancora usato la funzionalità diciamo del dei responsi di bootstrap però diciamo che il contenuto si adatta sempre nel senso che di default il browser in qualche maniera fa no però ecco questo è quello che succede nel momento in cui schiacciamo una finestra che non è responsive cioè diventa una finestra in cui c'è una dimensione minima al di sotto della quale ci viene la barretta per scorrere il CSS abbiamo visto come farlo possiamo installare bootstrap localmente certamente va benissimo non c'è nessun problema noi abbiamo fatto così solo perché faceva un copio in colla dell'esempio che abbiamo fatto prima per il momento il browser deve aprire un'altra sessione HTML per ottenere il CSS di bootstrap potrebbe avere senso che sia il nostro server anche nel nostro esempio anche se nel nostro esempio non abbiamo una forniglielo direttamente certamente sì 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 il browser deve essere collegato a internet in questo momento perché tutto funzioni perché sennò la libreria bootstrap nessuno ce la scarica però se l'abbiamo installato localmente e quindi la mettiamo insieme al nostro progetto lo stesso server che serve il nostro file HTML o poi più avanti JS quindi javascript eccetera può servire il file di bootstrap questi sono dei normalissimi url se io li apro adesso vabbè può fare copia e incolla vengono semplicemente scaricati cioè sono delle risorse scaricabili è un url copia giusto per farvi vedere che faccia questa è pura curiosità no? ho schiacciato dove è il browser e l'altro ok quindi se io metto qui quell'url cioè questo è il CSS bootstrap tra l'altro la versione minimizzata perché il browser e il parsing lo fa che ci siano gli spazi di a capo o no però giusto per farvi capire tutte regole CSS no? credo ci sia anche la versione penso ci sia anche la non min ok quindi per risparmiare al massimo sul numero di byte hanno tolto tutti di a capo tutte le cose che non servivano tutti gli spazi però c'è anche la versione leggibile no? e qui vedete sono tutte regole CSS quindi niente di particolare ovviamente è un po' grossino come file perché fa mille cose no? però sono normalissime regole CSS ok? però ben testate ben provate infatti vediamo il non minificato se lo installassimo localmente come lo includiamo nel nostro file HTML lo includete semplicemente come file nel senso dunque adesso facciamo facciamo molto banalmente save dobbiamo andarlo a mettere in quella cartella ecco web bootstrap CSS save no? ve l'ho salvato adesso mi spunta bootstrap CSS e anziché andare a includerlo dall'url io semplicemente href mettiamo via tutto bootstrap CSS fine salvo e riprovo quindi riapro il browser ricarico è locale non ho più bisogno della versione internet quindi se la installa via npm via npm per ora diciamo che deve andare a vedere dove gliel'ha messo nella cartella node modules e poi mettere quel percorso relativo nel node modules ok? avremo poi un altro meccanismo più avanti nel senso che nel momento in cui vogliamo creare l'applicazione react tutto questo ci viene automatico perché usiamo anche un server web vero vero nel senso che viene insieme al pacchetto di sviluppo di react e quindi tutte queste cose vanno a posto da sole adesso stiamo usando il meccanismo in maniera un po' manuale quindi non possiamo fare altro che aggiustare i percorsi a mano però se fate poi nel progetto vero alla fine npm install bootstrap diciamo cosa scrivere nel primo nell'unico file che scaricheremo nella nostra single page application abbiamo risolto il nostro problema e integrato con tutto il resto dell'applicazione però ce l'abbiamo locale viene servito dal browser locale ok quindi volevamo fare ancora qualche esperimento quindi che so sto guardando cosa si può fare di interessante ecco si può per esempio che so io prendo un giusto per farvi vedere dunque un riso studio code index 2 ci metto un aside ok quindi no non ne avevo ancora messe no ok actions che so andiamo a vedere che cosa succede quindi actions per ora il posizionamento non c'è no e quindi viene una cosa dopo l'altra devo in qualche maniera poi posizionarlo e adesso provo ad andare a fare questa cosa secondo la logica di bootstrap e così vediamo l'ultimo ultimo argomento di oggi è utile minimizzare anche i file che produrremo noi js css sì ma no nel senso per il progetto no ma queste cose di solito vengono fatte in maniera tutte automatiche quando parliamo poi della maniera di sviluppare con react ci sarà ci sarà poi il comando che se effettivamente volessimo usare quell'applicazione nel mondo reale ci fa tutte queste operazioni cioè lo minimizza ci fa un unico pacchetto ci dà qualcosa da mettere sul server eccetera noi ovviamente ci fermiamo prima perché da un lato dobbiamo poter interagire con il vostro codice vedere che cosa avete scritto e non vogliamo certo la versione minima no minified senza di a cap senza quello e poi a noi interessa appunto imparare lo sviluppo poi nel momento in cui dovete fare il deploy metterlo in un contesto reale magari appunto diamo un'indicazione a dire il pacchetto tutto questo sistema può creare anche un pacchetto che va bene per il mondo reale però non lo facciamo noi vediamo solo l'ultimo aspetto che mi preme perché altrimenti poi non sapete come andare a diciamo c'è già abbastanza per fare un po' di laboratorio però potevamo fare torniamo sulle slide ecco per fare funzionare bootstrap bisogna mettere un container a livello top quindi a livello top sotto il body che può essere di tipo container di classe container o container fluid il container si diciamo ha dimensioni fisse che cambiano a seconda della larghezza della pagina il container fluid invece occupa tutta la pagina e poi bootstrap usa questo grid system quindi quello schema a 12 colonne di cui dicevamo prima in cui fondamentalmente usando delle classi che si chiamano row, call eccetera riusciamo a collocare in maniera abbastanza precisa su questa griglia di 12 colonne i nostri contenuti è giusto per vedere perché adesso andiamo direttamente sull'esempio e poi quasi chiudiamo quindi nell'esempio andiamo a perché non si perde ok nell'esempio andiamo a fare questa cosa quindi andiamo a mettere il div direi anzi div container fluid quindi proviamo prima il container fluid row quindi qui dobbiamo chiudere un paio di div ok quindi salvo vado a vedere anzi faccio ok adesso poi sistemiamo questa cosa però quello che mi premeva farvi vedere è il comportamento della finestra in questo momento occupa tutto lo spazio abbiamo detto container fluid e se noi mettiamo container e basta quindi teniamo fluid questo è quello che succede ricarico tutte le volte vedete che si restringe però se allargo rimane dello spazio più allargo e più spazio rimane ok non occupa tutto lo spazio quindi questo è quel layout responsive di cui dicevamo prima ci sono le cose che sono indicate sulle slide come breakpoint diciamo qui quelli che abbiamo scritto sulle slide breakpoints cioè ci sono dei punti predefiniti al di sotto dei quali cambia quello che possiamo fare e questi sono indicati nei nomi delle classi bootstrap con queste abbreviazioni quindi small medium large extra large e questi sono i punti della larghezza e quindi nel momento in cui andiamo a fare diciamo a riorganizzare un po' il nostro codice html notate che non stiamo scrivendo niente in css avete scritto una cosa giusto per fare una prova ma era per mettere un po' di colore non ci interessa stiamo lavorando sull'html lavorando sulle classi e sulle classi diciamo che possiamo fare appunto container va bene dunque fat row dunque cosa si vedeva ecco i my scores e actions le actions che in realtà volevo sistemare diversamente e volevo diciamo andare a fare mettere di fianco no quindi se io faccio una row ok quindi in realtà tiriamo via l'header che in questo momento ci dà solo fastidio diciamo che abbiamo fatto una row di bootstrap no e abbiamo la side e il table eh io posso tramite quegli attributi che piano piano imparerete a usare quindi class e col e diciamo che eh comincio a scrivere col 3 no e sul table ci scrivo col ehm ehm potevo fare un div esterno e sarebbe stato meglio facciamolo va e la semantica voglio dire ha il suo significato no cioè se quella è una tabella mettiamo le classi relative alla tabella ma poi il resto decidiamo dove andare cioè come farla nel fuori sulla base di quello che vogliamo fare div ok dunque dovrebbe essere a posto a side quindi col 3 col 9 quindi la somma fa 12 ma giusto per noi per capire che quindi dividiamo in parti proporzionali a 3 a 9 e una riga dovrebbe essere a posto proviamo a vedere cosa viene fuori no ecco vedete che abbiamo due spazi e per vederli meglio io vi consiglio per esempio di aprire l'inspector adesso è fin grosso eh quindi vedete che c'è uno spazio a sinistra però perché questo si seleziona e deseleziona no quindi ecco questa è la side che ha col 3 e poi c'è il col 9 quindi questo tiene tre volte la parte di sinistra no la tabella è tre volte la parte di sinistra actions adesso ci sono due action ma stiamo pacioccando no quindi non non blocchiamoci su queste cose cosa succede nel momento in cui ridimensiono beh non è che funzioni tanto bene no in questo momento non ho usato alcun meccanismo responsive se io voglio usare un meccanismo responsive devo usare delle classi differenti come dicevamo sulle slide dove sono andate le slide devo decidere un punto di breakpoint o più punti di breakpoint se voglio più visualizzazioni a seconda della dimensione che so potrei potrei prendere che so dimensione media visto che sono sul computer non voglio ridurre troppo e dire che questi valori di col 3 e 9 vanno bene solo se è maggiore della dimensione media quindi io semplicemente scrivo col md 9 md medium 3 e adesso vedete cosa dovrebbe succedere ricaricando nel momento in cui ridimensioniamo quando arrivo ad un punto al di sotto di una certa dimensione che dovrebbe essere 540 pixel questa cosa è andata sopra e l'altra è andata sotto se invece allargo questa cosa sta a sinistra e l'altra sta a destra adesso piano piano poi si mettono a posto tutte le cose però è per farvi vedere che cosa succede nel momento in cui stringiamo allarghiamo la finestra abbiamo usato un container e nel momento in cui abbiamo deciso un breakpoint al di sopra di questo breakpoint ho 3 parti di 12 assegnate ad un elemento e 9 parti di 12 assegnate all'altro quindi all'action e al table al di sotto diventano se non scrivo niente altro diventano un call e un call se non scrivo niente altro si intende tutte le 12 colonne quindi finisce che una è sopra e l'altra è sotto quindi va a capo in parole povere ok possiamo possiamo dare che ora è? siamo già un po' fuori possiamo usare tutta una serie di cose che sono disponibili su bootstrap che a questo punto vi invito a vedervi fondamentalmente per conto vostro sulle pagine di bootstrap questi responsive layout volete capirli un po' meglio basta provarli se non è cliccabile ok basta provarli direttamente sul sito di bootstrap ci sono sempre gli esempi di quello che vedete quindi se c'è qualcosa che vi piace volete provare o volete imparare come si fa basta andare a vedere come funziona se noi andiamo più giù che so al dove che ecco un esempio un po' più sofisticato no voi vedete cosa succede nel momento in cui ridimensionate vi passa sotto che è quello che succedeva a noi al diminuire vabbè è scappato il clic al diminuire all'aumentare della dimensione della finestra un'altra cosa che vale la pena di vedere e poi finiamo è qui si è sulle slide i componenti che bootstrap ci mette a disposizione che vi invito ad usare sempre e anche poi nei vostri progetti nel vostro progetto alla fine del corso perché sono già ben fatti ben preparati ben sistemati quindi dovete visualizzare un messaggio lo volete rosso da qualche parte c'è scritto come fare class alert alert warning e scrivete quello che vi pare ed diventerà rosso lo sfondo il messaggio di questo colore rosso così bordi arrotondati e tutto quanto questo è lo stile bootstrap ok non andate a inventarvi niente di particolare non scrivetevi il vostro css per dire voglio il testo rosso perché verrà fuori permettetemi di dire una schifezza nel senso che non è coerente con tutto il resto della libreria questi sono già tutti abbastanza coerenti cioè tutte le volte che devo fare qualcosa di rosso sono fatto di questo rosso con questo testo rosso così e così via questo è per dire l'alert ma anche con i bottoni la stessa cosa vi hanno scelto un rosso coerente con lo stile bootstrap e così via avete bisogno di una lista dunque drop down button questa cosa qui non è impossibile da fare in css a mano con il javascript potete farla però perdete tempo a fare una cosa che comunque già fatta già fatta bene nella libreria cosa dovete scrivere scrivete button con le varie opzioni le collegate insieme così come vi fa vedere l'esempio dovete dare un id dunque dove dovrebbe esserci data toggle drop down no drop down menu comunque la documentazione vi spiega come fare no button dunque deve essersi collegato in maniera che però in questo momento mi sfugge praticamente esatto noi per utilizzare la libreria fondamentalmente dobbiamo solo assegnare i classi di tag poi se c'è proprio una cosa che non è inclusa nella libreria eccolo qua l'id è quello che li collega insieme va bene se c'è una cosa che non è inclusa nella libreria vabbè proverete a scrivere due righe di css a collocare una cosa in una maniera un po' diversa nella vostra pagina però onestamente io mi aspetto che quasi tutto sia fatto e pronto da utilizzare in bootstrap quindi questo per esempio è semplicemente una cosa che in cui il visibility lo mettiamo hidden o no e se lo mettiamo visibile poi ci passa sopra il mouse quindi c'è una pseudo class che quando ci passa sopra il mouse cambia il colore di sfondo e tutto però è tutto già fatto che sono l'ultima cosa un modal per dire piuttosto che quelle orrende modal che qualcuno insiste nel voler mettere all'esame perché scrive in codice javascript alert fa una prova sono già tutte qua tutte pronte scrivo button eccetera c'è l'esempio e vi viene fuori questa cosa addirittura con l'animazione close save col bottoncino tutto quanto già tutto pronto solo da usare ok magari da personalizzare perché la devo chiamare in una certa maniera id perché poi a un certo punto devo agganciare l'evento da javascript ma a parte questa cosina è già tutto tutto fatto quindi vediamo solo di non aver dimenticato nulla direi di no quindi dovreste essere in grado a questo punto di fare il laboratorio che verrà pubblicato oggi e massimo domani e che vi chiede fondamentalmente di mettere a posto una lista di task quella di cui parlavamo nel primo laboratorio javascript ma qui questa volta fare una tabella o una lista forse meglio una lista in html dando uno stile ragionevole e appunto provando un po' tutte queste cose quindi a usare la libreria iboostra per importarla fare html e dargli uno stile ragionevole ci sono anche delle iconine tutta una serie di cose interessanti in boostra ve le vedrete poi però a sto punto nella soluzione che vi metto poi vi mettiamo poi online passato al laboratorio se non ci sono dubbi o domande visto che abbiamo già sforato di sette minuti vi ringrazio della vostra attenzione e direi che possiamo ci vediamo lunedì nel laboratorio e che funziona come la settimana scorsa quindi è sempre online per entrambe le squadre purtroppo per ora siamo messi così ok non vedo dubbi o domande quindi direi che possiamo terminare qui grazie e ci vediamo lunedì grazie